ed eccoci qui siamo su un nuovo tratto diciamo stradale di berat e qui potete vedere un mercato mercato tipico albanese dove praticamente si trova di tutto qui hanno prodotti tipici locali dai figli e peperoni cosiddetti cumburi c'è un po di tutto ovviamente è molto grande come mercato sono lungo anche se si estende su questo nuovo ponte che hanno fatto su fiume o sum e come potete vedere sopra in alto c'è il praticamente c'è il castello di berat che sarebbe il castello dove partì scanderbeck non riusciamo a inquadrare bene perché non abbiamo la videocamera siamo con un telefonino però lì sopra c'è il castello di berat dove partì scanderbeck con i primi albanesi che vennero poi in italia a fondare i primi paesi al breccio sono nel nostro che ci sono soprattutto in calabria è molto bello da visitare uno dei monumenti della città di berat ringraziamo ovviamente salvatore pedalino per la sua regia eccezionale qui vediamo un'ape queste sono le api albanesi come vedete sono dei mezzi di trasporto che fanno di tutto ecco qui un'altra perché qui le api come le nostre quelle piccole non ci sono ovviamente qui la popolazione è più che mercedes più che mai sono tutte auto mercedes perché qui hanno queste auto in quanto poi quando si rompono le abbandonano e non ne fanno più uso ovviamente ecco qui vedete questo come si trasporta le piante a casa è una sfilata continua di auto mercedes oggi fa caldo anche qui siamo sui 31 gradi adesso grazie sempre all'impeccabile regia di salvatore pedalino faremo vedere anche il fiume questo è il fiume più grande uno dei più grandi dell'albania è il fiume ossum che attraversa la città di beratte e qui invece abbiamo di fronte tutte le montagne che separano l'albania dalla parte greca là dietro praticamente c'è la grecia e nonché i paesi di balce altri paesini che sono produttori di petrolio abbiamo notato purtroppo a nostre spese in questi giorni che qua i prodotti petroliferi sono molto cari d'altra parte salvatore pedalino ha già comunicato che non mi seguirà più con la sua regia qui perché sta spendendo un sacco di soldi con la sua vettura per poter mettere gasolio alla sua automobile oggi come dicevamo una giornata molto calda tra poco faremo un altro filmino quando andremo a fare benzina al nostro veicolo la nostra multipla che è sempre qui in perterrita come potete vedere in queste strade albanesi